Ciao ragazzi, un nuovo video per il canale SonteFuckingGamer Siamo qua nel secondo episodio di TheFuckingCraft Dopo un altro tempo Iniziamo il primo video del 2016 Con il nuovo episodio di TheFuckingCraft Con la versione 13.1 di Minecraft Mentre sono andato di ferna per prendere carbone Ho trovato anche 5 di ferro Quindi adesso quello che farò È Non craftare E carbone Ferro Giusto Non ho tolto la difficoltà Aspettiamo Tanto ho uscito qualcosa Di polli per mangiare Quindi Vediamo Non so che raggio Perché sto registrando lo schermo Con questa applicazione Spero che non laghi C'è fame Ah perché C'è una grande valle qua Bene Io andrei a esplorare Però prima prendiamo i nostri pezzi di ferro Per natura Quindi Però prego che non laghi Quindi Prendi tu questo E che ne manca uno E che ne manca uno Per la sicura Non è meglio di andare qua sopra Ok Questa valle è così grande ma io sento io mangio intanto per dato nato o così meglio e non vedo per adesso nessun mob vediamo andiamo avanti c'è una caverna di continuare in questa pianura verde verde sicurissima questo qua sarebbe primo primo video del 2016 c'è oltre al dalla gif craft che quelli sono solo che avevo già registrato e per non lasciare votare pubblicati però questo molto buono tanto lo spreco non vuole spettare un cacchio non ho neanche più carbone quindi che cazzo ci posso fare io sono distesa di pieno ora allora che cazzo ci facevo o è spawnato così per natura o c'è un villaggio qua da qualche parte credo che è spawnato di natura che qua non credo che ci sia un villaggio vedi la mia notte la mia prima notte su the fucking craft qua in live di solito in queste distese c'è un creeper vuole la sua polvere da sparro questo era spaventato che mi uccideva mangia sta cosa no no ho sprecato la mia sposa si sta per rompere questa non va bene in questa in queste penole ci devono essere dei villaggi la già vedo un creeper e dei molti cos'è quello è un villaggio un villaggio aspetta c'è un villaggio la però voglio passare fuori una notte perché si perché si dopo devo andare a cacciare i minerali questo sarà nel prossimo episodio anche se ho trovato già un ciliferro potrei fare una spara un piccone se trovo diamanti a stia parliamo degli amanti in secondo episodio questo non va bene quindi uranio 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 sei mio sei mio non so neanche quando cazzo sto ritrovando tu non mi fai paura io vado e notti i villager voglio voglio dormire subito che non mi riveni su un cazzo e mi incazzo ecco come l'ho detto non bruciarmi non bruciarmi un letto molto gentile oh che bella luce del sole da qua che sto registrando un po tardino per essere un video però lo pubblico subito credo che oggi farò su un video benvenuto vorrei una cesta l'aggio che lagga un po lo so che spero che anche il video non laghi ma c'è una porta aperta io mi stai la abbiamo villaggio con cesta ui colpo secco due emerald pagnota questo questo e questo e uno non lo metto che scrivo ho una skin orribile lo so non sto registrando sul tablet ma qua mi serve anche qualcosa che mi piace troppo questi blocchi io mi stabilirò in questa casa credo di stabilirmi però cosa la distrovo perché non ci vuole stare in questa casa però sto solo per risorse tutto e farmi un'altra casetta un'altra parte vicino al villaggio quindi ho già rubato un po di slab io direi di lasciare l'episodio tra un po non so se sto registrando un mondo porco porco patate sicuramente mi rubo si sto rubando da bene pronto si e ho già semi perché voglio essere i ho già i i i i i i i Grazie.